Ciao a tutti e a tutti e benvenuti nel mio canale Oggi ho deciso di fare un video che mi avete anche richiesto in tanti e si tratta del back to school quindi faremo un make up tutorial su come, secondo me, a mio parere si trova più praticità a tornare a scuola in un modo semplice e veloce per quanto riguarda il make up quindi io inizierò con la mia bellissima palettina non pensate che vado a truccarmi gli occhi in un modo estremo perché non penso sia adatto per la scuola, cioè, ognuno può fare quello che vuole, io a mio parere visto che ho un mio video, non andavo a scuola truccata anche sugli occhi, facevo una bella base comunque vi farò vedere, anche se avete del tempo in più, come utilizzare anche una palettina occhi in modo molto semplice poi, se volete dei make up tutorial fatemelo sapere qui sotto con un commentino allora, inizierei subito vedrete prodotti sia low cost che high cost non mi ricordo il prezzo di tutti mi dispiace però vi lascio tutti i prodottini usati sotto nell'info box e questo qua è il primer Arsali Unicorn Essence che ho comprato quest'anno da Sephora questa è la taglia più piccola e speriamo di non fare i casini perché io sono una casinista vado a mettere io ho sempre utilizzato il primer per andare a scuola perché visto che ho la scuola avevo perché ormai io l'ho finita la scuola quest'anno ho fatto la maturità e fatemi sapere anche se vorreste dei get ready with me perché a me secondo me divertirebbero molto però non so chi li guarderebbe perché sto cercando di impegnarmi di più sia qui sul canale che su Instagram e se non mi seguite ancora su Instagram mi chiamo xjuleschannelx ma cercherò un nome perché non mi convince ancora quindi per ora mi chiamo così ve lo lascio scritto qua sotto e quindi avevo la scuola molto molto lontana e avevo bisogno di un primer che mi tenesse sul fondotinta perché mi svegliavo alle 5 e mezza di mattina per essere a scuola alle 8 e mezza e tornavo a casa alle 4 e mezza quando mi andava bene quindi avevo bisogno di un buon primer quindi ho steso il mio unicorn essence e vado a mettere addirittura un altro primer tutto rigorosamente con le mani perché alla mattina non abbiamo tempo di stare a prendere anche il pennello questo è The Pore Freshional di Benefit ed è un primer che va a mattificare il vostro incarnato e pialla anche i pori ne ho messo un po' qua sulla mano e vado soprattutto a metterlo nelle zone dove io so che mi lucido di più fate conto che questo make up per la scuola adesso lo facciamo molto più lungo perché sto anche parlando con voi e so che mi perderò quindi alla fine è quasi un get ready with me e lo vado a mettere nelle zone dove praticamente io so che mi vado a lucidare quindi naso fronte e mento non fa assolutamente niente se sovrapponete più primer adesso non dico 5 primer però 2 ci sta la pelle è vista grassa ma se voi avete una pelle secca mi raccomando crema idratante prima di cominciare a truccarsi sono fissata con la base quindi a scuola utilizzavo il fondotinta ma so che molti di voi non utilizzano il fondotinta quindi una buona alternativa per quanto riguarda coprenze fondotinta è questo qua che è di Nabla il mio è nella colorazione cream beige e l'ho acquistato sul sito di beautybay non l'ho acquistato sul sito ufficiale di Nabla questo qua è il correttore ma questo cioè non avete mai provato un correttore così fidatemi è una cosa fenomenale vado a metterlo sotto gli occhi faccio questo triangolino quindi come quantità vi giuro che non è tante è lui che scrive veramente molto perché io vado proprio a trascinare l'eccesso che c'è sopra l'applicatore lo vado a mettere un po' qua sul naso un po' sulla fronte io spero si veda perché è la prima volta che faccio dei video makeup sul mio canale così e sul mento poi se voi avete delle imperfezioni come ho io perché non sono perfetta tipo dappertutto ho più che altro dei puntini rossi non sono brufoletti vado a scrollare l'eccesso che c'è sopra il mio applicatore nel resto del video ecco qua e vado a sfumarlo con la mia beauty blender che ho bagnato precedentemente quindi voi cosa mi raccontate di bello raccontatemi qualcosa poi se siete la scuola quest'anno avete finito avete fatto la maturità a che anno siete che scuola frequentate sono curiosa io sono molto curiosa comunque io ho fatto la maturità quest'anno appunto e nel caso qualcuno di voi avesse la maturità quest'anno vi prego non preoccupatevi perché allora gli iscritti è come tutto l'anno sono degli iscritti solo che hai davanti delle persone che non conosci e poi dipende anche dalla persona che vi arrivano perché io mi sono trovata benissimo anche con gli esterni erano tutti molto simpatici e carini può darsi che arrivi lo stronzo come va detta va detta io sono stata fortunata anche su quel lato però vi giuro che allora le verifiche scritte sono una cagata nel senso che bisogna avere un po' culo su tutto quello che vi esce alla maturità ok però se uno studia se uno si prepara senza ammazzarsi anche le cose vi vengono agli iscritti agli orali si tratta semplicemente se avete una sorella un fratello una mamma una nonna che si presta ad ascoltarvi vi aiuta tantissimo perché vi aiuta ad ampliare il dialogo perché è quello che loro vogliono sentire vogliono avere un dialogo con voi non vogliono sentire cose così se voi riuscite a parlare in modo frequente in modo consono e andare di lungo a parlare senza che loro vi interrompano anche se vi interrompano comunque continuare una discussione una interrogazione andrà tutto bene allora ho finito anche troppo bene di sfumare il tutto e vado a prendere la mia cipria di Laura Mercier questa è la Translucent è un amore odio con questa cipria per quanto mi riguarda perché non mi tiene settato benissimo ma dopo un po' comincia a poi prenderla fa tutti questi puntini cioè non è una cipria molto omogenea per quanto mi riguarda però l'ho pagata e la vado a utilizzare vado a prendere un'altra Beauty Blender questa è di Fenty ma voi potete usare anche benissimo subito il pennello non vi preoccupate e vado a settare il mio correttore sotto gli occhi io ho bisogno di una base molto molto matte perché so come vi ho già detto che vado a lucidarmi qui dipende dalla vostra pelle se avete una pelle molto molto secca io vederei anche la cipria andrei a mettere soprattutto un correttore idratante quello di Nabla può andare anche bene perché non è una cosa che va a seccare quindi vado a prendere ora sempre la mia cipria se volete un'alternativa valida alla cipria di Laura Mercier che io capisco che sia una cipria veramente veramente molto costosa c'è la Banana Powder che conoscerete bene o male tutti di NYX eh sì la Banana Powder che conoscerete bene o male tutti di Essence che è veramente veramente valida l'ho finita se no ve la facevo vedere qua in questo video l'ho finita ma ci sono tantissime cipria che sono valide di Essence la Banana Powder consigliata vivamente anche da Deborah Fully se la conoscete vado a prendere un blush questo è low cost non guardate la confezione adesso questa è una storia veramente molto affascinante è la confezione della Brighten Up Banana Powder di Essence quella di cui vi ho parlato ora che vi ho detto che avevo finito all'interno ci ho messo un altro blush Arriba si chiama di Essence perché si è sbriciolato tutto ma è caduto non so quante volte allora è morto sostanza e visto che la confezione è morta con lui ho deciso di metterlo qua dentro quindi è un po' un problema prendere questo blush questo è il canale delle sfighe questo è il mio canale benvenuti e vado a togliere l'eccesso soffiando e vado a dare visto che la mattina siamo tutte morte lo sappiamo vado a dare questo questo sprizzo di vita di gioia di andare a scuola anche se è tutto finto lo sappiamo ma tanto in faccia abbiamo tutto finto quindi un po' di blush non fa male questo è un blush che a me piace molto è scriventissimo quindi ne va veramente pochissima la tonalità 0-1 Arriba di Essence comunque questa è una base molto fresca anche io il fondotinta lo cominciavo a mettere verso novembre ottobre vado a prendere poi la mia Hoola Bronzer questa è la taglia mini quindi comunque sono cose che costano sì perché questa è di Benefit io confondo molto Too Faced e Benefit non so se capita anche a voi e vado a prendere il mio pennellino questa è di Deborah Milano ed è per il contouring questa è una terra calda preferisco molto di più il contouring o il bronzing caldo che freddo trovo che stia molto meglio con la mia carnagione rispetto a un contouring freddo che mi va molto secondo me a smorzare il viso a spegnere l'incarnato vado a far vedere un piccolo make up occhio ma veramente cioè piccolissimo dalla palette di Too Faced che si chiama Just Peachy Mads vado a prendere un colorino solamente per la mia piega dell'occhio in modo da dare un attimo di sfumatura e vado a prendere Peach Tea che sarebbe il secondo colore è un beggiolino lo chiamerei quasi sapete il colore del toast cotto chiamerei quasi così vado semplicemente a fare a seguire la mia piega dell'occhio sfumandolo più so questo è solamente per i più amanti del make up che alla mattina vogliono spendere quei due minuti in più per fare una sfumatura nell'occhio semplicissimo qua abbiamo in questa palette abbiamo solamente matte quindi non andiamo a fare cose shimmer ma se volete potete benissimo metterle adesso io ho questo e vado a fare questo e niente questa insomma sarebbe la nostra sfumatura e vado a prendere magari Peach Butter che è questo color burro e lo vado a mettere all'interno del mio occhio in modo da fare questa apertura al posto di un colore shimmer mi fa aprire molto di più l'occhio e non abbiamo la palpebra comunque senza un ombrettino all'interno questo è You Still A Baby non so come si pronunci di Fenty Beauty ed è un kit che costa 19 euro con anche il gloss che andremo ad utilizzare dopo Mosh vado a prendere il mio pennello per illuminante vado a prendere un po' di illuminante siete pronti ad accecarvi perché io non sono pronta ciao ciao mondo io adoro 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 l'illuminante vado a portarlo anche in modo molto grossolano anche qua sotto e con un po' di illuminante sopra il dito che si vede benissimo lo vado a mettere e sfumo anche sulla puntina del mio naso e sfumo e sfumo il mio arco di pupido il prossimo step io le mie sopracciglia le ho sempre fatte con il NYX Tame and Frame nella colorazione nella colorazione ragazzi non so parlare cioè se volete restare nel mio canale cioè anzi se non volete restare vi capisco questa è la colorazione brunette e con un pennellino angolato io andavo a rifinire le mie sopracciglia vi ne faccio vedere solo una poi l'altra magari lo accelero adesso vedo praticamente andavo a questo è uno step facoltativo uno può mettere anche solo del gel per sopracciglia uno può anche non metterci niente uno può farlo con la matita qualsiasi cosa io vi faccio vedere come lo facevo io per la mia school routine morning routine andavo a delineare praticamente le mie sopracciglia che hanno la classica forma ad ala di gabbiano come è chiamata e andavo a fare il mio contorno portando la fine delle mie sopracciglia sempre più giù poi andavo a riempire con il rimanente a riempire praticamente fino all'inizio della mia sopracciglia e andavo a sfumare con il pettinino apposta per le sopracciglia che è quello uguale al mascara praticamente un tip molto veloce se avete un mascara che è finito lavatele e usatelo per le sopracciglia questo è un tip molto da casalinghe quindi ero abituata a fissarle assolutamente ma io sono abituata in generale a fare questo make up anche per la scuola perché appunto ho la scuola che ha due ore di distanza da casa quindi se faccio un make up che non tengo fissato niente arrivo a scuola che non ho più niente in faccia visto che devo andare anche in autobus quindi figuriamoci e vado a fissarlo in questo caso con un po' di gel trasparente di Essence questo è stra economic e ve lo consiglio moltissimo perché per me è molto buono io ho le sopracciglia molto folte e questo gel me le tiene molto molto ferme per applicare il mio mascara questo è di bottega verde e se non avete mai provato i prodotti di bottega verde io ve li straconsiglio perché a parte il fatto di essere appunto come dice il nome bottega allora mi si è interrotta ovviamente la registrazione io nel frattempo ho finito di dare il mio mascara di bottega verde che come detto non mi ricordo com'era rimasta ma è un buonissimo marchio e ho messo lo spray fissante di NYX che fa sia da primer che da setting spray senza farmi il bagno ne ho messo veramente poco e ho messo il rossetto liquido di Yuda Beauty nella colorazione Girlfriend che è quel pack da 4 rossettini che vendono da Sephora a 36 euro e all'interno delle labbra sfumato in modo molto omogeneo ho messo Fenty Beauty Gloss Bomb per dare questo effetto molto rimpolpato e tra l'altro il colore sta benissimo con il trucco labbra ma è un colore molto molto portabile da tutti i giorni spero che questo video vi sia piaciuto se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale lasciatemi un commentino se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e ditemi qualsiasi tipologia di video che vi piacerebbe vedere sul canale vi mando un bacione e al prossimo video e al prossimo video